Dalle nostre parti si dice che la casa la fa ricca a Fimmina, e così è anche per il bandito. Lei è come tutto un mondo, come una favola bella che pure se non te la ricordi tanto bene, quando poi la cominci a dire, quella esce da te, tale e quale a come te l'avevano raccontata, e la sai, così da noi, da sempre, sai riconoscere la tua donna, perché quella è come una magaria che ti inseguirà, pure in già montagna. Così Marianna Oliverio aveva seguito il suo uomo, Pietro Monaco, feroce e brigante e grande Fimminaro, sui monti della Sila. Non che la donna fosse una santa, pia, devota e sottomessa vittima del marito, e che Ciccilla, così era nota al popolo, pure se era giovane assai, e in vero assai bella, vantava già sulle brune e tornite spalle una piccola strage familiare. Ora si dice che quella di solito a casa se ne stava in paese, e lì Pietro rientrava spesso, che dopo tutto la latitanza per lui facile era, che ci stavano dappertutto manutengoli e galantuomini, che facevano a gara per aiutarlo a s'ammucciar. Ma quanto era bravo Iggio ad ammucciarsi alla Guardia Nazionale, d'altra parte non fu capace accelare alla femmina sua moglie l'interesse che nutriva per la cognata, in già sua stessa casa. Ed essa, Marianna, nella notte, senza porre tempo ripensamento in mezzo, sua sorella, detta Oliverio Filomena, con trenta colpi di scure uccise per gelosia.